So che hai fatto una rapina. E che altro sai? Che non sei un rapinatore. Ma quest'amico tu... qua... che è venuto a fare? Bella vacanza sulla neve è venuto a fare. Tu lo sai che c'è un posto che io devo trovare? Via! Vai, vai! Si può sapere che hai fatto? Non c'è bisogno di aver fatto qualcosa con lui. Ma dove sta? Io voglio sapere quello chi è! Dentro c'era uno, Michele. Parlava di una banca, di una piazza... e di tanti soldi. Tu lo conosci davvero, mio figlio? Dicono che coi soldi si compra tutto. Ma io non c'ho un cazzo. Faccio un lavoro del cazzo. Perché? Lei dove vive? In Germania. Ah, allora ci sta abituata a tutto sto freddo.